San Francesco e la Conca Ternana. Non deve stupire se Francesco, sensibile conoscitore della bellezza suprema, sia stato attratto dal paesaggio della Valle di Terni, che gli si apriva dinanzi vivace e generosa, oltre gli ultimi speroni dei Monti Martani. Dalle alture della catena degli Appennini che circondano la Conca Ternana, la vista spazia verso est fino all'orizzonte orrato come un anfiteatro da maestosi e verdissimi monti, spesso innevati. Arroccati sulle alture si mostrano i tanti paesi che conservano come scrigni preziosi tesori d'arte. Le sbiadite immagini o le pareti affrescate delle loro chiese raccontano della presenza assidua e miracolosa di Francesco e dei suoi compagni. Un giorno, allo sbocco di una piccola valle, scrive Larranaga, da lontano apparve Terni. Come era a sua abitudine, Francesco si inginocchiò per il che adoriamo, rimase per lungo tempo in quella posizione. Sembrava che la sua anima si trovasse già sull'altra sponda. Passavano i giorni, si alternavano le valli e le montagne. Il mondo era tutto una primavera di vita e di splendore. Oltrepassarono dappertutto e parlava dell'amore. Ovunque il santo si fermasse, costruiva una cella per pregare. Lasciava testimonianze da perpetuare nei secoli. Ovunque sorgevano chiese, cappelle e conventi per venerare la sua spiritualità. A Terni, nella chiesa di San Cristoforo, il popolo accorse ad ascoltarlo. A Collescipoli, il fraticello risuscitò un giovane affogato. A Stroncone fondò un convento. A Narni fu festosamente accolto dal vescovo Ugolino e compì miracoli. A Calvi, un giovane nobile di nome Bernardo, gli chiese di prenderlo come suo discepolo. A San Gemini si unì al serafico Francesco Pietro Bonante, uno dei cinque santi protomarti di Francescani, uccisi in Marocco il 20 gennaio 1220. Ad Amelia, durante una predicazione, al suo comando le rondini smisero di cantare. All'acqua sparta beve un'acqua prodigiosa ed espresse il desiderio di erigere un romitorio e un lazzaretto. Lungo la suggestiva Valle del Nera si sentì profondamente turbato dalla fragorosa forza delle acque della cascata delle marmore. E, come scrive Bandini, fu colpito dalle numerose turrite castella, cinte di mura ferrigne e sospettose, ma tutte devotamente raccolte intorno alle loro chiese medievali, le più consacrate da antichissime tradizioni. I pellegrini che vogliono rivivere e comprendere in profondità l'esperienza di San Francesco nei luoghi da lui visitati e arricchirsi di ulteriori conoscenze naturalistiche o artistiche, possono raggiungere a pochi chilometri da Terni la cascata delle marmore o soffermarsi a osservare la chiesa di San Francesco posta nel centro storico della città.